Dicami, per favore, quante persone qui sono 56? Quante meno che 56 levi le mani? Guarda la future! E quante persone qui più vecchie che me levi le mani? Ho tanto tanto rispetto per voi perché voi potete capire migliore che me il valore di un giorno della vita. Dunque ho rispetto a tutto e io voglio cominciare lentamente per lo vecchio e più e più rapido per lo giovane. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì.